Ora, mettetevi per un attimo nei miei panni, ma io, da uno a un miliardo, quanto posso essere felice oggi? Giornata in cui Piero, Angela, è venuta a trovarci all'ora solare! Cioè, quelle cose che... Regali, regali, un grande, grandissimo regalo, grazie, grazie di essere qui. Allora, questo ragazzo, questo ragazzo che è Piero Angela, e credo che sul vocabolario italiano si debba cercare, cerchi giornalista, conduttore, autore, inventore, e poi cerchi Piero Angela ed esce fuori, ti devono mettere nella Treccani, Piero, col tuo nome e cognome. Eh beh... Cioè, quello è un Piero Angela, è un intelligentissimo! Sì, guarda, io faccio il mio mestiere, lo so fare da tanti anni, la gente mi segue, tutto qua, insomma, poi le cose di cui mi occupo sono interessanti e quindi gli ascolti sono anche buoni perché... Come si fa a non essere curiosi, capire le cose dell'universo, della vita, del comportamento e poi tutti i problemi della tecnologia, gli sviluppi... Qui vedo un po' le mie fotografie sempre con la giacca e cravatta. Certo. Oggi sono... Ah, oggi sei venuto in jeans, guarda! Inedita! Bella, inedita! Me lo posso permettere alla mia età. Quanti anni hai, Piero? Eh beh, ne ho talmente tanti che non ricordo più! Allora... Ho compiuto 90 anni. Hai compiuto 90 anni. Come la leggenda Elisabetta. Eh, ma infatti a questo volevo arrivare, cioè qui parliamo di un re, assolutamente re, parliamo veramente di una persona che, attenzione, per fare tutto quello che ha fatto e che continua a fare, ha una sua formula che io non definisco segreta, ma che è soltanto tua, cioè saper spiegare, conoscendo, senza mai far pesare sull'ascoltatore il fatto che noi non ne sappiamo nulla di quell'argomento e tu hai saputo... Sì, ma anch'io non ne so nulla, prima di cominciare. Eh sì, però Piero Angela sulla Treccani capisce tutto e quella è la differenza che corre. No, io ho scritto 39 libri su argomenti tutti diversi, ma prima di scriverli non conoscevo, ho dovuto studiare, perché veramente nel mio lavoro gli esami non finiscono mai, prima gli iscritti e poi gli orali e poi sei, ti dicevi di formula, la formula che c'è, è molto semplice, dalla parte degli scienziati per i contenuti e dalla parte del pubblico per il linguaggio. Io faccio il traduttore dall'italiano in italiano e questo funziona. Funziona da tanti anni, funziona da sempre, funziona da sempre, ma nel nostro titolo voi leggete un'indicazione che abbiamo fortemente voluto, perché Piero Angela è un musicista tra le altre cose, tu sei, tu hai un'anima jazz e anche un po' rock secondo me, ma questa la passiamo, però tu sei proprio, tu sei proprio un'anima jazz. Guarda, io avevo una forte vocazione musicale, ho fatto degli studi classici fino all'ottavo anno, ho dato degli esami di armonia, però sempre da amatore, da giovine avviato agli studi, di come si faceva una volta, perché questo è noto dal fatto che aveva un compagno di scuola elementari, l'amico del cuore, che era stato chiamato Ludovico, anzi Ludovico, in onore di Beethoven e doveva diventare un concertista, che è diventato, ed è morto in un incidente aereo, con un suo trio in Bulgaria, mentre era in tournée. Poi io ho studiato, poi ho smesso, perché poi in realtà lo facevo con una mano sinistra, poi invece studiavo normalmente. Però nel dopoguerra sono arrivati i primi dischi di jazz e loro con altri amici ci è piaciuta questa musica, abbiamo formato una piccola band e ci pagavamo le vacanze andando qualche volta a suonare in giro e quindi è stato così. E poi io sono diventato un bravo pianista di jazz e suonavo con i bravi per divertirmi, ma non l'ho mai fatto in termini professionali. Sì, ma noi stiamo aspettando un tuo disco. Guarda, questa storia di tuo disco è che da sempre voglio farlo e quindi non lo farò mai, perché sono troppi anni. Ma perché in questi anni diciamo che qualcosa da fare hai avuto e continui. Ma non hai mai tempo, è colpa tua. E tu sei Piero Angela, mica io. Scusa, una le fai e cento le pensi e ne realizzi. Bisogna fare bene le cose. Questo detto da te. Allora uno lo fa per divertirsi tra amici e questa è una cosa. Però un pezzo ce l'ho, un pezzo che avevo registrato tanti anni fa e è suonato bene. È una buona presenza. Il primo pezzo c'è, mancano gli altri. Mancano, beh ma possiamo anche fare un disco con un pezzo solo, diventa una cover. No, diventa... Dura tre minuti. Ma insomma, un tre minuti di Piero Angela che suona io garantisco vende. Usse vende. Dunque, uno studente, dice lui perché poi così, non troppo brillante, no non è vero, tu sei sempre stato, sei stato, hai insegnato attraverso il tuo lavoro, attraverso la tua persona che si diventa, ci si interessa qualcosa. Se l'insegnante, ecco la tua grande capacità di divulgatore, ti aiuta ad entrare in quel tema. Ecco, tu a scuola com'eri? Io a scuola mi sono molto annoiato perché era estremamente... L'insegnamento, ma anche quello della musica, è quello che poi a un certo momento mi ha allontanato, poi sono tornato a studiare musica. Perché per imparare, per studiare, per appassionarsi, tu devi in qualche modo essere motivato, devi essere interessato, devi... bisogna che le emozioni accompagnino l'apprendimento. Allora in quel caso, sì. Guarda, io facevo l'esempio della musica. I primi anni l'insegnamento era così noioso che ho smesso. Poi ho ricominciato da solo a suonare, a quel punto ero molto motivato, sono tornato... Ed è scattata la voglia. Per il resto è anche un po' così. Sono tornato a studiare dopo le cose che non studiamo prima. Le cose che non studiamo prima, questo ci dà speranza perché tutti noi, se torniamo a studiare, ma questa davvero è un'indicazione, è una strada. E Piero Angela la traccia da sempre, dal suo primo collegamento, dalla prima volta che l'abbiamo visto al lavoro, quante lauree onoris causa hai messo insieme, hai ricevuto? 12. Ebbè, è così. E che cosa hai imparato? Che cosa stai imparando dalla vita, Alberto? Guarda, io ho imparato che, a parte le cose del mio lavoro naturalmente, che ogni persona è una miniera di cose da scoprire. Anche le persone che apparentemente sono più ignoranti ti arricchiscono sempre. Credo che questo sia anche un po' un modo di vivere bene, perché io non ho mai litigato con le persone. In redazione non ho mai alzato la voce. Trovo che ogni persona ha qualche cosa da fare, da dire bene. Bisogna metterlo nella situazione giusta. Questo mi è servito anche nella divulgazione, perché tu devi metterti nei panni delle persone con le quali hai un rapporto, verso le quali devi spiegare delle cose. Credo che quello, c'è molta gente che non è interessata. Guarda, ci sono persone, che non cito, ma ben conosciute di altissimo livello, quando parli con loro non ti chiedono mai niente. Sei tu che devi fare domande. Io invece mi interesso le persone, perché mi arricchisco con loro. Ed è tipico, le persone che poi parlano anche di cose loro, spesso per metterti un po' in difficoltà, per farti sentire ignorante. Ecco, e questo è sbagliato, nella vita proprio, oltre che nel lavoro e nei rapporti. Io sono amiciste con tutti. Cerco di capire gli altri, di mettermi le loro panni. Piero, tu sei come una... tu sembri una sequoia. Sei quegli alberi... Ebbè, millenari. No, non per l'età. Nel senso, quegli alberi che sono così unici, così belli, e che per abbracciare tutto il tronco ci vogliono dieci persone. Così sei tu. Perché per prendere tutto quello che tu sei, tutto quello che tu ci dai da sempre, dobbiamo essere in tanti. Dobbiamo essere in tanti a dirti grazie. Tu sei uno splendido papà. Tu sei papà di Alberto. Ovviamente su Alberto c'è tutto un capitolo che semplicemente si conclude in un bravissimo punto e a capo. E di Cristina, tua figlia. Ma è vero che voi avete registrato l'audio della nascita dei vostri figli? Sì, perché loro sono nati a Parigi. Alberto nel 58, è una figlia un po' prima. E c'era un medico che praticava allora il cosiddetto parto in dolore. Ed era, non c'era niente di speciale, poi ho scoperto anche assistendo al parto e registrando che è semplicemente basato molto sulla psicologia. Intanto una preparazione al parto, cose che loro non si facevano. Certo, assolutamente. E allora c'era dei corsi con i genitori, con i mariti che devono fare. E lui chiedeva che i mariti partecipassero e assistessero al parto. Perché è un momento di grande emozione che tu non puoi cancellare. E la sua personalità così forte, ricordo che mentre registravo, mia moglie a un certo punto diceva, ma ho male. No, lei non ha male. Lei ha delle contrazioni. Ma le abbia lei, professore? Come dire? Qua vedo delle mamme che dicono, come non fa male? Però insomma, era un modo di... Tu stavi già facendo scienza, non te ne rendevi conto, ma... Sì, e poi lui faceva una radiocronaca. Una radiocronaca. Infatti quello che abbiamo è una radiocronaca di quello che sta cedendo, ma coinvolgendo soprattutto la mamma, perché il padre assiste. Ma in maniera così forte, creando un rapporto di fiducia. Anche quello. Allora, quanti... Tu sai di aver fatto nascere, come una mamma, tanti figli che hanno capito l'importanza della scienza, si sono appassionati. Anche sai, Piero, persone che non avrebbero mai pensato di sedersi davanti alla televisione e di capire. Ecco, tu hai creato tutta questa grande famiglia. E questa forse è la tua... Guarda, la cosa che è vero, ma è soprattutto vero che quando io vado in giro, specialmente nelle università, tutti quanti mi dicono, io ho scelto Fisica perché ho letto un suo libro, ho fatto la Biologia, ho visto sui programmi. Cioè, tutti noi siamo fatti di occasioni. Sì, tu hai, invece, attraverso la televisione, ma anche i libri. Io ho venduto tantissimi libri, più di 3 milioni di copie. Quindi qualche seme è andato in giro. Eh sì. Allora tu puoi seminare sul cemento armato e succede niente. Però se arriva nel terreno fertile, si accendono le lampadine. Guarda, persone veramente in posizioni importanti che mi hanno ringraziato perché hanno cominciato la loro carriera così. Ma questo è dovuto semplicemente al fatto che tu metti queste persone nella condizione di scoprire questo mondo e lo scoprono grazie della chiave che gli dai e quella della semplicità del linguaggio. Senti, meraviglioso Piero Angela, qual è la tua ora solare? Non farmi ora il discorso ora solare, ora legale, ti prego perché non è, non è, non sto scherzando. Nel senso, per ora solare intendo dire qual è la cosa che ti rende felice. Guarda, la felicità è qualcosa di speciale. La felicità è un momento, il beneste è un'altra cosa. La felicità è solitamente o è una cosa che si sa che arriverà, che aspettavi da tant'avento, oppure una sorpresa. Solitamente la felicità gli fa anche piangere. La felicità è quella tipicamente di un atleta che sale sul podio e sente il rinno di Mameli e in quel momento piangere. La felicità è quella che tu ritrovi un amico che hai perso. Poi la contentezza, allora queste sono cose diverse. La felicità arriva senza che tu riesca a pianificarla, a organizzarla. Quello che è importante è fare un lavoro che ti piace e portare avanti dei progetti cercando di riuscire a arrivare in porto. Ecco, questo, io dico sempre, io ho tanti anni, ma c'è un proverbio arabo che dice fai un lavoro che ti piace, non lavorerai per tutta la vita. Questo è vero. È vero per qualunque lavoro, ma in particolare per il nostro, che è molto creativo. Se tu invecchi, avendo sempre progetti, e ti senti in grado di portare avanti, questo è, diciamo, la felicità quotidiana. Sì, 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 sì. Quello stigione. Comprendo, comprendo, dottor Piero Angelo. Allora, noi facciamo così. Fra una decina d'anni, ti aspetto in studio, all'ora solare, con il tuo disco, con tutto quello che avrai pensato e prodotto nei prossimi dieci anni, va bene? Per regalarmi la prossima felicità, Piero, perché la mia di oggi è più di un atleta che ha vinto la medaglia d'oro ai 100 metri dell'Olimpiade. Piero Angelo, all'ora solare. Grazie, 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 grazie. Grazie a te, maestro. Che vi devo dire, lasciate le finestre spalancate e noi ce lo baciamo. Vieni qua, fatti dare baci, baci copiosi. Grazie a te, maestro.